Buongiorno a tutti benvenuti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa in diretta delle 7.30 occhio ai giornali cominciamo come di consueto con il salto del giorno oggi vi ho detto che è mercoledì 26 ottobre allora il santo di oggi la santa la beata Celina vi risparmio il cognome perché è un cognome impronunciabile però è una delle poche donne che ha attraversato tutti gli stati della vita cristiana è stata sposa madre vedova fondatrice di una congregazione religiosa ebbe come guida costante la ricerca della volontà di Dio e lei è morta nel 1913 aveva una casa aveva casa in Polonia Bulgaria Chicago e anche a Roma e il sole è sorto alle 7.37 tramonterà le 18 e 08 vediamo subito il tempo per oggi perché per oggi sono previsti dei cambiamenti dal punto di vista climatico abbiamo della pioggia pioggia che interesserà tutta la regione Marche come vedete dalla tarda mattinata rovescio temporali sparsi localmente anche di forte intensità che saranno più insistenti sulla costa in spostamento verso da nord verso sud dal tardo pomeriggio di oggi le precipitazioni riguarderanno maggiormente i settori interni della regione Marche i fenomeni sono in progressiva poi attenuazione dalla serata a cominciare da nord temperature in diminuzione nei valori massimi restano invece stazionari oppure in lieve aumento le temperature minime i venti oggi soffieranno da nord nord occidente di brezza tesa vento moderato lungo la costa con raffiche fino a vento teso la rotazione poi dei venti da nord est arriverà dal tardo pomeriggio e faranno sì che il mare sarà anche molto mosso per domani il tempo vedete migliora giovedì 27 ottobre cielo che ancora rimarrà inizialmente nuvoloso solo nel meridione dove ancora ci saranno possibilità di rovescio temporali solo nella parte interna e qualche cosa sulla costa vedete le temperature sono in diminuzione per la giornata di venerdì il cielo sarà completamente soleggiato su tutta la regione Marche con temperature in diminuzione solo nei valori minimi e questa situazione quindi di tempo bello con quest'area anticiclonica che garantirà tempo stabile lo avremo fino alla per tutto il fine settimana e l'inizio della prossima visto il tempo andiamo a dare uno sguardo ai giornali cominciamo dal Corriere Adriatico il Corriere Adriatico punta l'attenzione sulle strade killer quelle che ogni tanto purtroppo mietono vittime come è successo l'altra mattina a Monbaroccio sulla strada per Monbaroccio dove è morto un 19enne che stava tornando con gli amici a casa anche se poi lì il problema è stato semplicemente il sonno alle 5 e mezzo del mattino senza voler essere irrispettoso io credo che occorra stare a letto non in giro per la strada ma questo è un altro discorso strade killer troppe tragedie chiesti guardrail e illuminazione domani l'addio a Filippo Giovanelli oggi in consiglio la prima interpellanza mirata i mazzi di fiori sulla strada ormai non si contano più più che una via la provinciale 32 è un cimitero una strada secondaria solo formalmente visto l'elevato numero di mezzi che tutte le mattine transitano poi questa notizia che porta è stata riportata anche sulla pagina regionale ha fatto scalpore questa questa notizia che riguarda un asilo un asilo a Fabriano quindi nella nostra regione botta i bambini sospesa la maestra la violenza ripresa dalle telecamere nascoste i volti terrorizzati dei piccoli le vittime per reazione picchiavano i loro peluche e io credo che ormai non sia più il caso di andare di tardare molto con le telecamere di video sorveglianza all'interno di questi degli asili di chi insomma ha a che fare con i bimbi piccoli che spesso sono indifesi non possono far nulla contro contro i grandi chilometro zero invece sulla pagina 2 del corriere adriatico chilometro zero modello vincente la marcia in più del settore biologico la provincia pesarese fattura 20 milioni all'anno con un incremento del 18 per cento presenza capillare su tutto il territorio andiamo sulla sulla pagina 4 del corriere perché anche oggi si parla della sanità scintille per fosso sei ore siamo pesaro non accetta il no del partito democratico la mozione della minoranza non ha il coraggio dicono il movimento 5 stelle il sindaco trascura che la regione sindaco di peso loricci naturalmente trascura che la regione aveva raccomandato un'analisi costi e benefici per demidio è falso che per fermare la mobilità passiva occorra una nuova struttura poi come sempre nel sul corriere adriatico dati percentuali gradutori e tutte cose interessanti il corriere così come fa sulla pagina successiva quindi la pagina 5 è sempre molto attento e pressing dei sindaci si va verso muraglia ceriscioli possibilista dice c'è un movimento politico quindi attendo di capire se si riunisce l'assemblea di area vasta per il nuovo ospedale stop invece al project contratto di disponibilità e appalto aperto 3 milioni per il progetto l'annuncio del governatore sulla procedura prescelta in consiglio comunale consiglio regionale andiamo adesso sulla pagina di senigallia in primo piano o meglio la pagina in primo piano delle marche perché riporta una notizia da senigallia un giovane un giovane che ha filmato ha avuto l'idea di filmare in aula con il suo telefonino con l'iphone il fondo schiena della prof uno studente delle medie ha girato questo video e lo ha diffuso su whatsapp e adesso ovviamente si trova nei guai è stato il padre del ragazzino a scoprire il video e a segnalarlo all'associazione genitori e poi questo è poi c'è anche il commento se vogliamo di quello che perché si prova a dire o a dare una spiegazione a questi a questo generi di operazioni che spesso vengono fatti in classe per condividere infatti vedete dice è il piacere di condividere una bravata cioè quello di aver fatto una cosa che non si poteva fare di condividerla queste trasgressioni tecnologiche che piacciono tanto agli adolescenti che sono in cerca di spazi e per socializzare e soprattutto per stupire fanno la pagina del corriere in due anni lavori per centocinquanta milioni a fanno mai si era era stato fatto tanto dice il sindaco massimo seri che poi annuncia un museo del carnevale e la casa del jazz e poi dice abbelliamo la città massimo seri che tra l'altro sarà ospite qui in questo studio questa sera lo ricordo i telespettatori questa sera dopo il telegiornale delle 20 e 30 sarà in diretta quindi se volete inviarci già da oggi un messaggio qualcuno già l'ha fatto ieri ma volete siccome avremo poco tempo questa sera con il sindaco sarà un po più breve la puntata di primo cittadino potete già inviarci così ci portiamo avanti con il lavoro e le vostre domande anche attraverso whatsapp allora l'investimento torniamo sul giornale sul corriere l'investimento più rilevante è quello delle strade compensative della terza corsia della 14 il museo il museo cittadino è insicuro la soprintendenza riprende i reperti il movimento 5 stelle vuole vederci chiaro chiede le dimissioni del responsabile ma l'assessore minimizza andiamo sulle altre pagine energia ed edifici intelligenti l'aset la società pubblica del comune vince il premio nazionale ora è possibile il finanziamento fino al 65 per cento dei progetti di riqualificazione ambientale in questa immagine la presidente di aset spa lucia capodagli che interviene dopo la premiazione andiamo sull'altra pagina al via l'appalto per la gestione del parcheggio dell'ex caserma paolini a disposizione ci sono 40 mila euro per due anni sarà scelto il progetto con attività innovative l'associazione di volontariato dovrà garantire la sicurezza e l'apertura dello stabile poi c'è il referendum lo sapete ormai il 4 di dicembre e allora il si stanno adesso scegliendo gli scrutatori coloro che per qualche giorno lavoreranno e prenderanno qualche soldino ebbene da fano fanno sapere che per gli scrutatori che saranno nelle sedi appunto del comune solo disoccupati come scrutatori la scelta della commissione elettorale la metà dei nomi pari a 132 sarà invece estratta a sorte tra questi che ovviamente sono disoccupati non occupati o studenti non lavoratori dalla pagina della valle del cesano la cronaca la perseguita con telefonate hot e insulti un pergolese si rivolge ai carabinieri 160 chiamate in poco più di una settimana così non vivo dice la donna una pergolese quindi la donna ha controllato il numero coperto e riconosciuto la voce mentre lui fa sesso con un'altra mi ha minacciata anche al lavoro ma non ho paura chi subisce deve avere la forza di reagire questa è la notizia in apertura sulla pagina della valle del cesano poi da senigallia invece regala vestiti usati dei suoi bambini però li ritrova pensa in vendita pensate in vendita sul web non è la prima volta che succede in realtà lo ha scoperto una giovane mamma che adesso dice rammaricata volevo fare un'opera buona c'è chi però ne ha approfittato la pagina social è questa qui te lo regalo senigallia dintorni un gruppo chiuso che conta 2161 membri dove si può mettere così in vendita regalare soprattutto te lo regalo si può mettere il regalo un po quello che non si usa più aveva affidato l'abbigliamento di un gruppo facebook per beneficenza l'ultima pagina del corriere ladri alla festa di compleanno sempre da senigallia rubano borse portafogli eppure la moto una razzia nell'area verde di rosciolo a borgo ribeca appello sui social network per restituirli per ritrovarli brutta sorpresa per diversi invitati al party non ci siamo accorti di nulla fino a quando non siamo usciti e questo è il corriere andiamo sul resto del carlino la pagina principale con la fotografia è per il parco miralfiore che è diventato vedete il parco dello spia dello spaccio una ventina di pusher di venditori di droga tutti i giorni sono lì in azione i continui controlli di polizia e carabinieri cercano di scoraggiare questo fenomeno però purtroppo c'è poco da fare questi quando vedono le forze dell'ordine ormai si riconoscono da ambe le parti no uno all'occhio per scoprire il ladro e l'altro all'occhio per scoprire il carabiniere quindi certamente è una corsa è una caccia guardie ladri che ogni giorno si fa difficile ci sono tante lettere su questa situazione del parco miralfiore di mamme che si dicono preoccupate poi sotto la testata cerisciolle sceglie il tipo di appalto ma rallenta su fosso sei ore ospedale unico con il contratto di disponibilità i sindaci si riuniranno di nuovo raid i ladri rubano anche la solidarietà razzia al palasnupi svuotata la cassetta dei soldi per i malati di tumore e poi c'è la notizia anche che da che il c'è il rischio che cattolica insieme a gabice diventi un unico comune e però un comune non certamente sotto la provincia di pesero ma un comune romagnolo c'è il rischio annessione questa fotografia gennari vedete il sindaco di cattolica tutto in prima pagina sul carlino andiamo sulla pagina di fano invece al buio sul bagnato ecco il cimitero trappola degrado al piano inferiore del padiglione c scivolano tutti non solo c'è anche ci sono problemi di illuminazione vedete c'è questa lampada completamente spenta ormai da diverso tempo una lettrice denuncia cinque anni senza questa lampadina insomma la situazione del cimitero ormai più o meno la conosciamo tutti ormai ci si fa quasi nemmeno più caso però purtroppo è così la situazione è quella che ha descritto la signora grave invece l'anziano caduto dall'albero è stato operato si trova in rianimazione a rimini l'84enne è ricoverato al torrette di ancona delicato intervento di neurochirurgia e poi sempre a proposito di lavori di asfaltature il resto del carlino punta l'attenzione sulla strada di rosciano al camposanto la strada adesso è ok grazie appunto ai lavori di asfaltatura fedelico talè consigliere regionale spinge sui farmaci equivalenti e la regione lo segue mozione che passa e che ha avuto quindi l'ok la spesa per il medicinale nelle marche è passata da 78 a 106 milioni di euro poi sopra anche qui lavorare i seggi disoccupati i studenti avranno la precedenza e dopo la bici d'oro ecco la bici elettrica invisibile è l'articolo di silvano clappis di questa mattina sul resto del carlino angelo tomassini brevetta una nuova invenzione elegante leggera e costa anche poco la bicicletta avete qui sto curando l'allestimento di una nota marca di scooter sta venendo dice lui annunciando le sue prossime sfide sta venendo un bel lavoro e allora strada siamo sulla pagina di urbino e provincia da fossombrone stradali stradari scusate sono stati inviati tutti i file al 118 per conoscere le strade perché giustamente gli autisti devono sapere esattamente tutte le volte che vengono modificate le strade quant'altro tutti gli stradari devono essere aggiornatissimi i file sono stati inviati sì al 118 peccato però che sono quelli per i piloti di alle ambulanze quindi non credo che ci facciano molto gli operatori al sindaco bonci trovare una via è diventato un'impresa poi c'è anche l'articolo su sant'angelo invado il tartufo d'oro vadesi lustri all'estero premiato benedetti questa è la pagina di pesere provincia torniamo invece su quella in primo piano andiamo su quella in primo piano perché ci sono qui due pagine noi ve ne insegniamo soltanto una gli albergatori si sono riuniti e adesso sono sul piede di guerra varotti il direttore generale della conf commercio è andato giù pesante soprattutto contro l'abusivismo cioè coloro che per esempio fanno quelle cose senza 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 permessi e ce ne sono tanti chi si organizza si improvvisa bar chi si improvvisa ristoratore di tutto di più e quindi gli albergatori anche quelli che affittano le case gratuitamente scusate gratuitamente senza dichiarare che ci sono degli ospiti no dei villeggianti all'interno della propria abitazione insomma tutto quello che è abusivo ecco luciano cecchini da fano invece di fano concorrenza sleale se incassiamo meno vuol dire che qualcuno ci toglie risorse attraverso comportamenti non consoni ad un paese che vuole la legalità serra invece a gabice sono necessari incentivi per la ristrutturazione degli alberghi allargati anche ai gestori non solo ai proprietari scomparsi i bonus promessi del governo e la regione non finanzia più la promozione dice ancora polemico americo varotti la provinciale siamo già sul Corriere Adriatico l'abbiamo già visto allora mi fermo qui non c'è altro sì il resto del credito è terminato ok allora mi fermo qui dicevo non c'è altro per la rassegna stampa vi ringrazio vi saluto vi ricordo appunto che stasera c'è il telegiornale e subito dopo c'è primo cittadino con in diretta il sindaco di fano massimo serie a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti